Buonasera, buonasera e ben trovati. La prima notizia non può che essere quella relativa al Napoli campione d'Italia, però non è una notizia di calcio in verità, perché qualche intemperanza di troppo si è registrata, come sapete, ieri sera a Varese con gli ultra che non hanno dato il meglio di sé, tra cori e anche qualche aggressione, muri imbrattati, tutte cose di cui parla in maniera molto critica il sindaco di Varese, Davide Galimberti, il quale non a caso ha deciso di rispondere con il gesto simbolico che vedete alle mie spalle, cioè la bandiera del Napoli affissa sulla facciata di Palazzo Estense. Lo sport è bello, se il tifo è allegro e rispettoso, dice il sindaco, che invece definisce inaccettabili le azioni compiute ieri sera. Andiamo adesso invece a Darcisate, che vede un importante esempio di rigenerazione in corso, la presentazione di quella che il Presidente di Comunità Montana ha chiamato la Casa del Piambello, ospiterà associazioni importanti come la Protezione Civile, ma non solo. Oggi presentiamo ufficialmente questa nuova proprietà della Comunità Montana, ritirata da un fallimento di una grande impresa che faceva tessitura. Questa è una grande possibilità di rilancio per lo sviluppo economico di tutta la valle, un edificio completamente nuovo, dotato di un'intera copertura fotovoltaica che sviluppa 2 MW di potenza e che quindi può essere utilizzato anche nella logica dell'autoconsumo, ma nella produzione energetica. Vogliamo rendere questa la sede di tutto il movimento del volontariato d'emergenza della Comunità Montana, protezione civile, antincendio boschivo, guardie ecologiche volontarie, il volontariato di soccorso di valle. Dopodiché, sulla base di quelle che saranno le indicazioni che la nostra Assemblea e la conferenza dei sindaci ci daranno, valuteremo anche le possibilità di inserire in questo stabile di dimensioni notevoli, oltre 7.000 metri quadri coperti, il centro di formazione professionale che è un'azienda speciale della Comunità Montana ed eventualmente anche formazione post-diploma mediante l'insediamento di istituti tecnici superiori sulla base delle richieste che l'imprenditoria locale ci darà. Il mercato di Varese potrebbe chiudere i battenti e sparire nel nulla tra 18 mesi, una notizia che lascia estere fatti vista la storicità del mercato, ma così è. A lanciare l'allarme è la FIVA di ConfCommercio, l'associazione di categoria, col suo presidente Stefano Calzavara. Il problema è il nodo delle concessioni che dipendono dal governo, in seconda battuta dalle regioni. Alcune città del nostro territorio, spiega Calzavara, qualche anno fa si sono messe a posto garantendo concessioni fino al 2028, Bustrasizio, Gallarate e Tardate ad esempio. Varese invece no e anche Luino, quindi adesso inizia una corsa contro il tempo, l'appello è alle istituzioni affinché intervengano. Adesso parliamo di salute, andiamo a Luminate dove un'interessante conferenza Lions ha visto protagonisti due luminari del nostro ospedale di Varese, i professori Grossi e Severnini. Il tema molto delicato era quello dei trapianti. Prima le brutte notizie, poi quelle confortanti. Le prime riguardano i tempi di attesa, come scandito da Alessandra Grossi, comunicatrice della sanità che ha coordinato la serata Lions dedicata ai trapianti. Più di tre anni per un rene, organo decisamente più richiesto. Tre e mezzo per un cuore, oltre sei per un pancreas e non va meglio per fegato, polmone e intestino. Una sala d'aspetto così interminabile da costare frequenti compromissioni, talvolta la morte. Dopodiché, per voce dell'infettivologo Paolo Grossi, gli ospiti del Varese in Subra e della sua presidente Roberta Manfroi, artefici della serata vissuta in sinergia con i Lions Host, hanno potuto toccare con mano gli enormi passi avanti in termini di scienza e efficienza che fanno onore all'Italia e a Varese. Mentre per bocca dell'anestesista e rianimatore Paolo Severgnini abbiamo compreso l'importanza cruciale dei primi minuti, quando la morte dell'uno può determinare la sopravvivenza dell'altro e la generosità degli infermieri che giorno e notte assistono passo passo i pazienti in bilico. Da abbattere infine qualche luogo comune che nuoce alla salute di tutti. Piaccia o no, gli organi vitali che più somigliano i nostri sono quelli dei maiali, perciò se serve benvengano. Secondo, l'HIV è oggi gestibile con una semplice pastiglia, ergo ricevere un organo da un donatore positivo non deve più rappresentare un tabù. Uno spettacolo teatrale e soprattutto una doverosa celebrazione, quella della Croce Rossa che verrà festeggiata lunedì sera a Varese nell'ambito di una serata che vedrà patronista soprattutto le Croce Rossine, ma non solo. L'appuntamento è in Sala Montanari, nel capoluogo, a partire dalle 20.45. E a proposito di Croce Rossa, andiamo a Gallarate per prove pratiche di salvataggio. Semplici manovre in grado di evitare una tragedia sono quelle salvavita pediatriche che in occasione della giornata della Croce Rossa italiana e della mezzaluna rossa il Comitato gallaratese porterà in Piazza Libertà a Gallarate sabato 6 maggio dalle 16 alle 18 per un pomeriggio di formazione gratuita. È un evento collettivo informativo dove degli istruttori qualificati di Croce Rossa andranno ad insegnare alla popolazione come comportarsi di fronte a una persona in età pediatrica in arresto cardiocircolatorio. E verranno proprio fatti vedere su dei manichini, accompagnati anche con della musica per far capire qual è il ritmo corretto da seguire, quali sono le giuste manovre e le giuste tempistiche per poter risolvere una situazione che viene definita di grave urgenza. Poi gli istruttori rimarranno a disposizione della popolazione per rispondere a eventuali domande che dovrebbero sorgere durante la parte pratica. Il fatto anche di trovare questi defibrillatori nelle zone strategiche dei vari comuni potrebbe essere anche supportato dal fatto di averne già visto uno in funzione, per esempio. Quindi essere presenti sul posto e vedere cosa succede nella simulazione potrebbe dare sicuramente modo alle persone di dire l'ho già visto, mi ricordo, ha fatto così, insomma dare veramente una chance nel momento in cui se ne ha bisogno. Manovre salvavita anche a Somma Lombardo in piazza Scipione domenica 7 maggio dalle 11 alle 13. Matteo Bianchi, esponente politico della Lega, come sapete è stato nominato ai vertici della società che si occupa del traforo del Monte Bianco e già quella è una partita intensa. Dall'orizzonte però ne avrà un'altra da giocare in prima linea, tutta europea ma con forti e potenzialmente drammatiche ricadute sull'impresa di queste parti. Fresco di nomina nella società che gestisce il traforo, Matteo Bianchi deve già fronteggiare l'imminente chiusura dell'importante infrastruttura. Il traforo del Monte Bianco è un'infrastruttura strategica che sarà oggetto di lavori che dureranno per più di un anno e quindi i nostri territori rispetto a quell'asse infrastrutturale saranno interrotti. C'è da gestire ovviamente l'economia dei confini insieme ai territori francesi e anche svizzeri. Dopodiché l'esponente leghista si appresta a tornare in Europa a fianco del governatore Fontana per una nuova sfida comunitaria. La cosiddetta direttiva aria che è un qualche cosa che è estremamente negativo e penalizzante per tutto il bacino padano. Il 24 di maggio dovrebbe esserci un incontro dei presidenti delle regioni del bacino padano con commissari europei per cercare di far comprendere come i nostri territori all'interno di questa conca non sono paragonabili ad altri territori che hanno un riciclo di aria molto più importante. Quindi quegli obiettivi ambiziosi e determinati sono oltremodo penalizzanti per le nostre economie e per le nostre imprese. Storia, celebrazione, memoria e anche qualche polemica da Buster Sizzio con la presentazione delle pietre d'Inciampo e poi un commento che ci riporta ai dibattiti del 25 aprile. Pietre d'Inciampo, credo che non fosse possibile dare un nome migliore a queste opere. Sono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunther Demig per depositare nelle città di tutta Europa una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Le prime sei pietre d'Inciampo di Buster Sizzio sono state deposte al Parco Comerio. Il 10 gennaio 1944 alcuni lavoratori della ditta Comerio, Vittorio Arconti, Arturo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi, Alvise Mazzon, Giacomo Biancini e Guglielmo Toia, colpevoli di aver fomentato uno sciopero, vennero arrestati, portati nel carcere di San Vittore e dopo due mesi furono deportati nel campo di sterminio di Mauthausen. A casa non si parlava molto del nonno, della vicenda della deportazione, non ha ricordi diretti e i suoi fratelli, anche se leggermente maggiori, erano comunque troppo piccoli per ricordare e la nonna non affrontava spesso il discorso. Anzi, io non ricordo di avergliene mai sentito parlare. La sematrice Segre spesso ha spiegato il perché. Per moltissimi anni c'è stata una sorta di tabù nell'affrontare il discorso della riportazione. Un dolore troppo forte nel rimangare certi ricordi. Nel mio primo mandato e anche attualmente ho sempre chiesto attenzione al mondo giovanile, destinatario del messaggio di pace e concordia che il 25 aprile ispira, che mai come quest'anno ha interessato l'opinione pubblica, purtroppo non per ricercare elementi di unione, bensì per evidenziare le differenze. Sembra chiaro, invece, come nessuno possa mettere in dubbio che la guerra e la mancanza di libertà che ha caratterizzato il periodo fascista non possa essere ricordato se non per evitare che si possa ripetere. Ed è per questo che auspico sempre che i giovani vengano educati ad avere come orizzonte il bene comune, imparino dagli errori di chi ci ha preceduto, si appassionino alla politica e ritornino a dimostrare un interesse alla vita che non sia fatto solo di social, ma di veri rapporti sociali. Non soltanto quelli dell'aperitivo o del divertimento, ma quelli ben più onerosi della coesione sociale e dell'impegno a favore di una nuova ripartenza italiana in Europa e nel mondo. Scende il campo e aspira al ruolo di sindaco Maria Luisa Limido. Andiamo a Venegono Superiore. Candidata sindaco di Venegono Superiore, Maria Luisa Limido in campo con un centrodestra compatto a suo favore. Le priorità se diventasse sindaco? Allora, riqualificare, rivalutare tante zone del paese. A me è care, perché essendo venegonese, me le ricordo da quando ero bambina, si sono modificate, ma mi piacerebbe dare un grosso valore a tutte queste zone, senza escluderne nessuna. Dal punto di vista sociale, momento un po' difficile per tante famiglie, è possibile che il comune, nonostante i limiti, riesca ad aiutarle? Assolutamente sì. Io sono al terzo mandato di servizi sociali, per cui ho bene in mente tutta la realtà del paese, situazioni fragili, situazioni che vanno tenute tutte sotto controllo e che sicuramente con l'impegno del comune, ma anche con il grosso lavoro che viene fatto nell'ambito distrettuale di Tradate, con il nostro distretto, Venegono è uno degli otto comuni del distretto, di portare sempre più avanti l'aiuto alle famiglie, le famiglie intese anche a livello di bambini, di anziani, proprio a 360 gradi. Come sapete a Venegono la sfida è tra quattro candidati sindaco, nei prossimi giorni ascolteremo gli sfidanti di Limido. Adesso cambiamo zona e argomento, torniamo a Busto per parlare di fotografia. Siamo molto soddisfatti per la partecipazione del pubblico, soprattutto di un pubblico giovanile che ha potuto apprezzare i percorsi proposti, quindi i fotografi storicizzati che hanno raccontato un po' il Novecento e la fotografia contemporanea, quindi linguaggi che si sono in qualche modo intersecati e che hanno proposto dei percorsi legati proprio all'espressività della fotografia, la capacità di emozionare, la capacità di raccontare anche la storia. In un periodo in cui il fotogiornalismo è in grande crisi abbiamo proposto delle soluzioni alternative legate alla fotografia del futuro, che non è più fotografia ma immagine e si fonde sicuramente con l'arte, con il video, con l'installazione e quindi dei progetti nuovi che saranno il futuro soprattutto delle nuove generazioni. E per l'anno prossimo? L'anno prossimo, per la dodicesima edizione, vorremmo concentrare la nostra attenzione su temi di grande attualità come l'ambiente e l'energia, ma offrendo sempre una panoramica internazionale, non solo di nomi notissimi per scelta, ma anche di autori emergenti, di grande talento che meritano di essere valorizzati e conosciuti. Sempre nell'ambito culturale andiamo a Gallarate, al Museo Studi Padri. Da oggi a Gallarate il Museo degli Studi Padri si arricchisce di una nuova collezione. Sì, l'importanza della donazione effettuata da Achille Macchi, dagli eredi di Achille Macchi, è importante non solo perché costituisce un arricchimento del patrimonio librario della Società Gallaratese per gli Studi Padri, ma anche perché denota un affetto nei confronti della società che ormai da decenni non veniva manifestato in maniera così importante. Ricordiamo che la Studi Padri ha realizzato le sue collezioni in base alle donazioni dei gallaratesi, degli amanti della storia, di chi aveva affetto per la conservazione della storia patria. Ecco, in questo caso ricominciare con le donazioni è di buon auspicio per il futuro delle raccolte museali. In questo caso specifico della collezione degli studi, quindi testi, libri antichi, libri di storia recente e soprattutto gli studi che Achille Macchi stava svolgendo, quindi la raccolta dei documenti, molto spesso in fotocopia ma importanti, tratti dagli archivi, dagli archivi che consentono la ricostruzione della storia del territorio e delle famiglie importanti gallaratesi, tra cui la famiglia Macchi, sempre stata molto radicata e importante nel territorio. Il Macchi di Cagliello è considerato fra i tre fondatori dell'ospedale maggiore di Milano. Enrico Macchi in particolare donò nel 1926 la struttura nella quale ci troviamo, cioè il Chiostrino, alla Società Gallaratese per gli Studi Patri, quindi questa è la sede. Una a due giorni musicale nel cuore del Borgo Antico succederà il 21 maggio a Castiglione Olona. Ecco l'invito. Domenica 21 maggio, col patrocinio del Comune di Castiglione Olona, QBART presenta Hamlet Synthesized, festival di musica elettronica che si terrà proprio tra le mura del Borgo Antico di Castiglione Olona. Questo contrasto tra l'antico e il moderno è quello che porta alla nascita del nome, Hamlet. Hamlet come l'amleto di Shakespeareano a memoria, ma anche Hamlet come traduzione di Borgo. E appunto come Hamlet noi stessi ci chiediamo ma che cos'è in realtà la musica elettronica? Beh, noi cercheremo di costruire dei percorsi per scoprirlo con voi e soprattutto a partire dalle dieci e mezza di domenica potrete provare alcuni degli strumenti. Ci sarà infatti un momento divulgativo in cui alcuni di noi saranno a disposizione per spiegarvi e farvi provare le macchine. Dopodiché intorno a mezzogiorno avremo l'intervento di Maria Maddalena Novati, un personaggio importantissimo per l'arte e la musica italiana. E poi dal pomeriggio avremo una serie di performance con degli artisti fantastici che faranno fino a sera musica elettronica. Su fronte calcistico il Varese attende la sfida con l'Umezane. Sembra un paradosso ma è così. Il Varese si presenterà all'ultimo appuntamento della stagione regolare di Serie D con un velo di tranquillità. Per la prima volta nelle ultime settimane l'ansia di dover raggiungere a tutti i costi la salvezza non accompagnerà la squadra di Porro. Domenica 7 maggio la capolista Lumezzane sarà obbligata a non perdere a Masnago per festeggiare la promozione in Serie C. L'obiettivo salvezza diretta è sfumato per i biancorossi che sono già certi dei play-out a prescindere dal risultato. 90 minuti prima della partita più importante della stagione che si giocherà domenica 14 maggio. Al momento non è dato sapere né dove né contro chi perché il destino play-out si deciderà negli ultimi 90 minuti. Situazione ingarbugliata visto che tutto può ancora succedere. Delle sei squadre in lotta solo il Varese non può salvarsi direttamente. Seregno e Villavalle appagliata 38 punti se la vedranno con Desenzano appena salito al quinto posto e determinato a difendere i play-off. E Alcione obbligato a vincere sperando in buone notizie da Varese per andare allo spareggio. Del trio a 36 solo la Folgore Caratese ha un turno morbido visto che i Brianzoli ospiteranno la già retrocessa caronnese. E per quanto riguarda la pallavolo è ufficiale. È Julio Velasco il nuovo allenatore UIVA. Si chiama Julio Velasco il primo colpo della UIVA del presidente Giuseppe Pirola che grazie al contratto triennale firmato con il nuovo coach si appresterà a vivere un nuovo entusiasmante corso. Una nuova vita, un progetto sostenibile a medio-lungo termine guidato dal maestro argentino. Attualmente impegnato come direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV, Velasco sarà di fatto sulla panchina bianco-rossa dal primo settembre ma è già al lavoro con la società per la costruzione della nuova squadra. La nuova e-work Buster Sizio sarà caratterizzata da una forte rappresentanza di giocatrici giovani e di prospettiva ma vedrà anche la presenza di atlete di esperienza. L'obiettivo è quello di creare una squadra competitiva e equilibrata in grado di ben figurare da subito e di crescere insieme negli anni. Julio Velasco, lo ricordiamo, è stato il primo allenatore straniero a guidare la nazionale italiana maschile e con Little Volley ha collezionato dal 1989 al 1996 tre ori europei, due mondiali, un argento olimpico e cinque vittorie nella World League, crescendo e formando uno dei gruppi più forti di tutti i tempi in quella che è passata alla storia come l'epopea della generazione dei fenomeni. Anche per stasera è tutto, il TG torna domani con uno speciale dedicato al grande convegno degli ingegneri che si è svolto oggi a Varese lunedì nella sua forma canonica. Buona serata. Grazie a tutti.